Esce in anteprima il 22 febbraio al Festival di Berlino e in streaming dal 6 marzo su Netflix, Supersex. La serie che ripercorre la vita di Rocco Tano prima di diventare Rocco Siffredi interpretato da Alessandro Borghi. Proprio per l'occasione, a qualche giorno dal debutto, l'attore diventato icona del porno si è raccontato in un'intervista al Magazine 7 dove ha confidato le emozioni provate nel rivedersi in questo prodotto televisivo. Che effetto gli ha fatto vedere Supersex? Ho pianto per giorni, ha ammesso il porno divo, inizialmente non riuscivo a riconoscermi negli attori, poi però ho rivissuto l'infanzia e la morte di un mio fratello, a 12 anni durante una crisi epilettica, dopo le lesioni causate dai malviventi, NDR. Ho rivisto mia madre, gli amici d'infanzia. Bellissimo, ma vedere scorrere la propria vita in poche ore sul divano con moglie e figli, è anche surreale. Importante per lui è stato anche vederla insieme alla moglie Rozza Tassi e i figli, volevano vedere se tutto corrispondeva ai miei racconti. Rosa sapeva da che situazione vengo, dei guai in cui mi sono infilato da ragazzino per aiutare la famiglia, e la realtà è stata anche più sofferta di quanto appare nella serie. I miei figli non immaginavano una vita così diversa rispetto alla loro, ovattata e protetta. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.